Musica Sono arrivato al punto in cui Pamela dice di aver sentito qualcosa E c'è? Ma tu non ci credi? Possibilista Non tutti la pensiamo come lui, io ci credo Nel salone sono sicura che qualcosa mi ha toccato La mia casa è infestata E' meglio entrare preparato in quella casa Musica 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 Musica